eccoci qua io sono anna claudia martini sono rtd all'università di bologna sezione geografia enrico ha già detto il titolo dell'intervento quindi parte direttamente con una breve out line della presentazione parlerò qui del giappone in particolare della regione del tocco che quella maggiormente colpita dal disastro del 2011 che spero tutti ricorderanno poi andrò in particolare nei processi di ricostruzione e in particolare come uno dei mega progetti la costruzione di 400 chilometri di muro antizunami lungo la costa ha provocato contestazioni proteste ma anche una maggiore espressione una rivisitazione del rapporto che le comunità postiare hanno con l'oceano e in generale anche con i fiumi ma soprattutto con l'oceano e come questa idea come la costruzione dei muri ha riportato a galla un certo tipo di ocean literacy tradizionale come sono state recuperate alcune conoscenze pre muri antizunami per avere un futuro più sostenibile per queste comunità sempre legato al rapporto portale quindi guarderemo brevemente l'impatto economico ma soprattutto quello socio culturale e religioso per ricordare a tutti l'undici marzo 2011 nella regione del tocco in giappone è avvenuto quello che si chiama un triplo disastro cioè un terremoto di magnitudine nove il terzo più potente mai registrato nella storia che ha causato uno tsunami con vette fino a 40 metri che ha completamente distrutto interi città vedete qui la città il paesino di riku zentacata dopo il disastro questo tsunami è arrivato fino a sei chilometri dentro diciamo distruggendo e appiattendo interi città e soprattutto l'azione combinata del terremoto e dello tsunami hanno causato un cortocircuito alla centrale nucleare di fukushima daichi eh causando eh il meltdown di tre dei sei reattori nucleari e questo è un problema che purtroppo il giappone si porta avanti ancora oggi quello che è interessante per noi è soprattutto l'effetto dello tsunami visto che questa sessione parla di onde inizio subito con un'onda estremamente grande estremamente potente che ha distrutto non solo le città ma anche la fiducia che i giapponesi avevano nei sistemi di sicurezza messi in atto dal Giappone perché il Giappone è considerato globalmente come uno dei paesi più avanzati per quanto riguarda la prevenzione per questi disastri perché stando all'incrocio di due faglie eh sono molto abituati a eventi come terremoti e tsunami quindi l'inefficienza di questi sistemi ha colto tutti di sorpresa in primisi sistemi di allarme ma anche i breakwaters le dighe le dighe sui fiumi e i muri antizunami che sono stati spazzati via e che hanno contribuito alla morte di oltre quindicimila persone molte persone sono chiaramente morte annegate ma altre anche colpite dai detriti di questi muri antizunami perché le onde dello tsunami non si tratta di un'onda unica ma di diverse onde che vanno avanti e indietro e che per giorni hanno colpito queste comunità in più i muri preesistenti hanno contribuito a non far uscire l'acqua non farla tornare verso il mare e hanno trattenuto l'hanno trattenuta nelle città ulteriormente peggiorando la situazione dopo questo disastro questa è brevemente una mappa delle del Giappone e delle zone colpite che sono quelle rosa scuro ho segnato alcune città così per darvi un'idea di dove sono localizzate che sono le città dove ho intervistato persone di cui vedremo le esperienze dopo. L'undici marzo qua potete vedere uno dei centri di evacuazione o quello che ne rimane purtroppo lo tsunami è stato così alto e i sistemi di allarme giapponesi non danno non rilevano tsunami e mandano un allarme solo per otto o più metri non dando una specifica di quanti questi più metri siano quindi uno dei problemi più grandi è stato che molti giapponesi hanno ricevuto questo allarme di otto più metri di tsunami e di fronte da muri anti tsunami che vanno dagli otto ai dieci metri hanno pensato che non fosse necessario evacuare anche a fronte di questi allarmi e della richiesta di evacuare o hanno evacuato in centri di evacuazione che non erano pronti per gestire un'onda così alta. In questo centro sono morte più di cento persone che avevano seguito le indicazioni governative e si erano messi a riparo nel centro appropriato. Quindi questo è uno dei grandi problemi iniziali che i muri anti tsunami che già esistevano e che già erano in atto non solo si sono rivelati inefficaci perché sono stati distrutti dallo tsunami ma hanno anche creato un senso di forza sicurezza rispetto agli tsunami che possono avvenire rispetto alla potenza che l'oceano può avere in queste aree e molti sostengono che i muri anti tsunami abbiano causato più morti dello tsunami stesso perché c'è stato 40 minuti, sono stati 40 minuti di tempo affinché queste persone potessero evacuare ma hanno deciso di non farlo. Dopo il 2011 il poco ha vissuto dei momenti di di recupero di recovery, uno a breve termine che riguarda le case temporanee, sono state situazioni molto complesse, molte persone sono state in case temporanee molto più a lungo di quello che era stato previsto. In queste zone rurali molto anche isolate dal resto del Giappone si sono accelerati i processi di depopolamento, perdita di lavoro e di soluzione dei legami comunitari perché queste comunità messe in case temporanee sono state divise, sono state spostate e molti non sono mai tornati nel loro paese o nel vicinato in cui erano all'inizio perché le case nuove sono state assegnate tramite lotteria casuale, quindi le comunità non avevano la possibilità di scegliere dove venivano portate. Poi ci sono dei progetti a lungo termine, vediamo per esempio in questa foto lo stadio di Kamaishi che è stato costruito per la Coppa del mondo di rugby, ci sono stati un sacco di eventi sportivi, purtroppo ricordiamo le Olimpiadi di Tokyo di questa estate che sono stati venduti, marketizzati dal Giappone come Recovery Olympics o anche il Rugby World Cup è stata pubblicizzata come un evento che mostra come questi paesi si sono ripresi. Però la questione principale è stata la creazione di megaprogetti in queste comunità che di fatto hanno creato una separazione o stanno creando una separazione tra queste comunità costiere e l'oceano che sono le levaluzioni di intera città dieci metri sopra il livello del mare, questo implica svuotare le montagne che si trovano al ridosso di queste città, distruggere completamente le città, trasportare la terra dalla montagna sui detriti, creare questa elevazione di dieci metri e ricostruire la città sopra. Questo assieme alla costruzione di muri molto più alti. Se prima erano otto dieci metri, adesso parliamo di quindici, diciotto metri e ripeto, in un'area di quattrocento chilometri che va a murare e a creare quella che molti nelle comunità definiscono una prigione lungo tutta la regione del Tohoku. Questo è stato definito da molti al di fuori del Giappone come una forma di disaster capitalism in cui il governo giapponese dopo il disastro ha deciso di, diciamo, dare respiro ad alcune grandi aziende che si occupano di costruzione e creare progetti come i muri, come lo stadio, come l'infrastruttura per le Olimpiadi. Quindi questi muri esistono e hanno causato molte tensioni e molte contestazioni. Le comunità non li vogliono, ma non gli è mai stato chiesto se i muri potevano essere costruiti o no. Nel 2014 il governo centrale di Tokyo ha deciso che i muri andavano costruiti. Nonostante molta parte della comunità scientifica non giapponese abbia espresso forti dubbi riguardo all'efficacia di questi muri, sia per, come abbiamo detto, l'idea più psicologica che questi muri possono causare un senso di falsa sicurezza e far sì che le persone, quando succederà un nuovo disastro, decidano di non evacuare o non evacuare in tempo, sia da un punto di vista fisico, se succede di nuovo uno tsunami di 40 metri, niente fa pensare che anche un muro di 18 metri possa reggerlo. Quindi questi dubbi che sono stati espressi dalle comunità, prima con calma e poi con forti proteste, che vanno tuttora avanti, non sono stati... Scusa, Anna Claudia, hai due minuti ancora. Certo. Allora salto un po'. Non sono stati accettati dal governo e hanno causato l'idea che la comunità sia stata chiusa in una prigione. In più, lentamente, la paura che questo possa causare una perdita dell'ocean literacy e del rapporto col mare. Questo rapporto col mare, quindi salto un po' di cose, è un rapporto che i giapponesi, che queste comunità costiere vogliono, quello che stanno rivendicando è un diritto alla vulnerabilità e all'essere vulnerabili e quindi a avere alternative ai muri che siano più sostenibili e che permettano di mantenere un rapporto diretto col mare, che per loro è fonte di sostentamento, ma anche fa parte della loro religione. Lo shintoismo, che è la religione autoctona giapponese, vede il mare come un essere senziente. Tutti i rituali più importanti in Giappone, soprattutto nelle aree costiere, vengono fatti in mare. Qua vedete il rito dell'Oboni, in cui alcune lanterne vengono messe in mare per onorare i morti. E ad esempio molti lamentano il fatto che questi rituali non potranno più avvenire perché implicano il trasporto di una portantina, di solito dal tempio principale all'oceano, ma se c'è un muro in mezzo questo non si può fare. Quindi c'è una dissoluzione di questo rapporto religioso, ma anche una separazione sociale dall'oceano e dal tessuto sociale di queste comunità che ha l'oceano come entità, entità non umana ma sempre presente in tutte le loro pratiche. Quindi questo vorrei chiudere con una nota positiva. Il muro è inevitabile e verrà costruito, ma ciò che ha dato di positivo è la creazione e il recupero di conoscenze precedenti che a volte sono state unite al muro a causa delle pesanti proteste, come ad esempio le foreste che sono state costruite oltre i muri per dare un senso estetico a questi muri, un senso estetico maggiore, ma anche come secondo punto di difesa, poiché piantare alberi con radici profonde limiterà la velocità dello tsunami in futuro. Sono stati aggiunti cartelli stradali che indicano dove è arrivato lo tsunami in determinate aree costiere. È stata creata una serie di narratori tradizionali, di solito sopravvissuti allo tsunami, detti Katarive, che portano in giro le persone, sia locali che turisti, e raccontano la storia e sono state create nuove rotte di evacuazione per lo tsunami. Quindi, senza dilungarmi troppo, la speranza è che questi sistemi più sostenibili possano raggiungere sempre più persone, anche se non possono essere utilizzati in Giappone con l'avvento del cambiamento climatico, i grandi cambiamenti che stiamo vivendo, che altri paesi possano fare magari scelte più sostenibili. E finisco qua perché so che ho già superato il mio tempo. Grazie mille. Grazie. 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 Grazie.